Fa notizia in città la procedura di licenziamento collettivo avviata da Dante Labs, azienda nata come start-up specializzata nell'analisi genomica, riconvertita durante gli anni della pandemia per eseguire tamponi covid, processarli e fare altri test. Sulla faccenda è intervenuto il sindacato CGL, una realtà imprenditoriale giovane che sembrava molto promettente e che ora si trova ad affrontare una crisi che pare irreversibile e che mette a rischio decine di posti di lavoro. La società, hanno spiegato ai sindacati, non ha pagato diverse retribuzioni al personale e ha iniziato il percorso di esuberi. La CGL ha spiegato che in prima battuta la società ha coinvolto le organizzazioni sindacali per valutare la possibilità di ricorso agli ammortizzatori sociali e sostegno al reddito, ma dopo pochi giorni ha improvvisamente avviato una procedura di licenziamento collettivo. Sono coinvolti i lavoratori tra i 30 e i 40 anni. Domani mattina intanto dalle 10 davanti al Tecnopolo ci sarà un sit-in perché la CGL ha proclamato lo sciopero del personale. Anche il sindaco sta monitorando la situazione. È una situazione che stiamo monitorando. Abbiamo preso contatti con la proprietà per capire effettivamente qual è il perimetro a rischio. Si parla di numeri non alti ma comunque significativi perché siamo intorno alla decina, alla dozzina di unità. Si faranno i percorsi classici qualora ci fosse la proclamazione e lo sciopero, quindi le procedure di raffreddamento. Il tavolo in prefettura, contemporaneamente, bisogna trovare un'alternativa in termini di ammortizzatori sociali naturalmente, ma soprattutto di ricollocazione, visto che si tratta di personale che ha acquisito delle competenze specialistiche significative. Dante Labs è salita agli onori delle cronache durante la pandemia. Società che ha lavorato moltissimo, seppur privata, dando ausilio alle possibilità di Asle Ospedale che non sarebbero mai riusciti a sopportare una molo di lavoro così elevata. Società conosciuta anche fuori dai confini per i test di ultima generazione, l'analisi genomica in particolare. È chiaro che il lavoro a pandemia finita sia un po' sgonfiato, ma la procedura di licenziamento ha fatto sorprendere non poco un po' a tutti.